Senza tornaconti elettorali o politici, ma soltanto perché è la cosa giusta da faio. Essere qua è un dovere nei confronti delle nuove generazioni, che subiscono un presente povero, non solo di renato, ma culturale, politico e formativo. In Italia parliamo sempre solo di immigrazione, senza tener conto che il nostro paese sta subendo una forte emigrazione. Centinaia di migliaia di giovani e neovariati, ogni anno se ne vanno, in cerca di fortuna all'estero. È un nostro dovere cercare di cambiare le cose, perché l'Italia dovrà essere la casa di tutti.